Passato il maltempo, c'è di nuovo traffico nelle autostrade del mare. Gli sbarchi di migranti sono di fatti già ripresi a pieno ritmo. A Pozzallo è approdata oggi la nave Golfo Azzurro che ha tratto in salvo 360 persone tra la Libia e la Sicilia. I primi migranti sono stati segnalati a poca distanza dalle spiagge libiche e così la nave della Guardia Costiera Peruso ha raggiunto il punto segnalato. Da quel momento i soccorsi si sono ripetuti. Tante piccole barche e gommoni viaggiavano a poca distanza le une dagli altri. Uno dietro l'altro sono stati avvicinati dalla nave dei soccorsi per tutta la notte. In mare tra sabato e domenica c'è stato molto lavoro da fare per tutti. Il penultimo sbarco sulla costa eblea risale a domenica scorsa con la presenza tra l'altro di sette donne incinte ad accogliere i clandestini sul muro come sempre, i sanitari dell'ASPE, della Croce Rossa per fornire assistenza medica e le forze dell'ordine. Dopo il riconoscimento personale i migranti sono stati ospitati all'hotspot di Pozzallo. I casi che hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria avanzata sono stati trattati negli ospedali del territorio ebleo. Oltre alla donna in travaglio a ricorrere al trasferimento verso i nosocomi erano stati migranti con patologie varie. Tornando allo sbarco di oggi si tratta come accennato di 360 migranti di cui 288 sono uomini, 44 donne di cui una in stato di gravidanza e poi ancora 5 bambini ed anche un neonato. Per fortuna stanno tutti abbastanza bene. La loro provenienza è mista maggiormente dal centro Africa, anche tanti bengalesi a bordo. Gli uomini delle forze dell'ordine sono già al lavoro per individuare gli scafisti. Nei prossimi giorni la situazione meteo migliorerà nel Mediterraneo e questo fa presupporre purtroppo che gli arrivi di nuovi barconi di migranti potrebbero intensificarsi. Il centro operativo della Capitaneria di Roma è dunque già al lavoro per monitorare la situazione. Grazie a tutti.